ben trovati amici si riapre il club del libro sul mio canale twitch oggi giornata importantissima dal punto di vista storico lo celebriamo attraverso un'opera che è stata pubblicata in realtà a settembre del 2020 ma oggi assume un'importanza particolare lo vedete già qui con me riccardo michelucci uno dei curatori di questo meraviglioso libro bobby sans scritti dal carcere poesie e prose benvenuto riccardo grazie ciao buona giornata a tutti e a tutti allora 5 maggio 1981 si spegne una delle voci più importanti io direi del concetto rivoluzionario se mi passi il termine perché poi è un termine molto abusato quello di rivoluzione degli ultimi direi 50 anni della della storia del vecchio continente bobby sans siamo negli anni dei cosiddetti troubles dell'irlanda si combatte non soltanto per un discorso politico non soltanto per un discorso umanitario ma si combatte per affermare uno status ogni volta che c'è un conflitto ci sono vincitori vinti e soprattutto ci sono tutte le persone che subiscono processi io credo che la grande battaglia di bobby sans sia stata soprattutto in questo senso però ti chiedo riccardo di fare un passo indietro provare a inquadrare meglio di come ho fatto io la figura di bobby sans è un ragazzo che noi fan della musica potremmo tranquillamente tra l'altro far rientrare nello sfortunato club 27 ovvero di quelli che hanno perso la vita all'età di 27 anni giusto come come i canti insomma cominciai da genie hendrix a me winehouse eccetera 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 dunque si aveva quelle tali era nato nel 1954 e alle una di notte intorno alle una di notte del 5 maggio 1981 risuonò questo 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 grido terribile che rimbombò come un tuono tra i corridoi del carcere di lon cash e un grido in gaelico l'antico idioma irlandese che diceva bobby è morto era una notizia che tutti temevano che avrebbe aspettato da un da un'ora all'altra da un giorno all'altro perché con una gran cassa internazionale diciamo c'era erano passate settimane mesi 66 giorni per la precisione di sciopero della fame appunto all'interno del carcere di lon cash e bobby era il capo di questa protesta fino alla morte la guidò la iniziò per primo e fu il primo a morire non fu purtroppo l'ultimo perché fu seguito da nove suoi compagni che in rapida successione fino all'agosto di quell'anno appunto si spensero tantissimi altri parteciparono a quello sciopero alcuni addirittura facendolo più lungo dello stesso bobby sense c'è un volontario dell'ira tuttora in vita che si chiama lauris mckion fece 70 giorni di sciopero della fame e poi quando entrò in coma la sua famiglia lo firmò appunto perché fosse alimentato artificialmente quindi terminò il suo sciopero e quindi è ancora è ancora vivo ma diciamo che quella protesta fu il culmine di un doppio binario di lotta che vedeva gli scontri per le strade appunto durissimi in una fase una delle tante fasi estremamente complesse di un conflitto che dura schematicamente dal 1969 al 1998 e appunto ci fu un escalation di lotta carceraria che comincia intorno al 1976 quando il governo britannico decide di la cosiddetta politica della criminalizzazione ovvero sia considerare che tutti i membri dell'ira che erano incarcerati non erano più prigionieri politici ma erano criminali comuni voleva diciamo costruire un racconto anche per farlo comprendere all'opinione pubblica sia britannica che internazionale che loro non stavano combattendo per un ideale politico cioè non avevano un fine politico ma erano dei semplici criminali e questo ovviamente può sembrare banale forse a una lettura diciamo superficiale che si possa cominciare uno sciopero della fame semplicemente per avere uno status carcerario differente ma in realtà c'è tutta una simbologia e soprattutto ci ci sono dei principi che nel veder scadere questo questa lotta appunto a livelli di criminalità e quindi non considerarla più una lotta politica sarebbe stato lo svilimento degli stessi principi che questa lotta voleva portare avanti e quindi cominciò questa escalation che cominciò prima con il rifiuto appunto degli abiti carcerari quindi si vedono questi giovani uomini all'interno di queste celle sono stati fatti anche dei bei film al cinema che si avvolgevano semplicemente nelle copie in delle coperte poi cominciò la cosiddetta protesta dello sporco ovvero sia la il fatto di non di non avere più accesso ai ai servizi igienici esterni dalle celle e quindi si vedono queste celle che cominciano a riempirsi di di escrementi di fatto che vengono spalmati sui muri della della cella vengono di fatto lasciati sul pavimento celle che come dire più che celle lo stesso bobby senza nei suoi scritti le definisce la mia tomba perché erano completamente vuote se non appunto di questa sporcizia loro potevano disporre semplicemente di una bibbia e di una coperta lo stesso materasso sul quale dormivano veniva portato via durante il giorno e riportato la sera quindi delle condizioni carcerarie mostruose all'interno delle quali lui riuscì comunque a esprimere diciamo il suo pensiero e anche la sua diciamo arte in un certo senso perché nonostante che fosse un ragazzo giovane che non aveva avuto accesso pressoché di alcuna forma di cultura aveva cominciato dei studi da giovanissimo che aveva dovuto interrompere intorno ai 15 anni e nonostante questo è riuscito a tirar fuori dalla sua lotta dalla sua diciamo dal dal suo animo una una forma non solo diciamo di di protesta ma anche una forma di prosa e di poesia che ha una valenza letteraria e lo faceva tra l'altro bellissima maglietta lo faceva tra l'altro nelle condizioni più più terribili perché uno non deve immaginarsi il carcerato in un non so seduto a un tavolo con la macchina da scrivere o con penna e calamaio tutt'altro lui scriveva in pezzi piccolissimi pezzi di cartigenica o cartine da sigarette con un minuscolo a minuscola ricarica di penna sfera della dimensione di 23 centimetri che nascondeva all'interno al suo corpo e faceva uscire clandestinamente queste palline diciamo ricoperte con della carta stagnola o comunque diciamo della in condizione di fortuna passandole ai suoi familiari durante le visite appunto all'interno del carcere queste palline poi venivano riaperte e trasformate diciamo in scritti che venivano pubblicati su questa su questo settimanale del movimento repubblicano irlandese appunto che si chiama tuttora anfoblact repubblicano e diventarono appunto anche una forma di informazione quando all'epoca era tutto diciamo oscurato dalla propaganda britannica ecco eh quello che eh hai raccontato è giustamente il il contesto all'interno del quale si ritrova Bobby a eh portare fuori dal carcere questi scritti scritti che eh come recitai lo stesso libro si dividono tra eh poesie e prose eh è particolarmente affascinante anche la scelta proprio di eh dedicarsi a qualcosa di così aulico io ricordo che eh una delle considerazioni più belle che mi portò un musicista di New York quando partecipò al compleanno di Shane McGowan ai 60 anni di Shane McGowan ovvero il cantante dei Pogs eh in Irlanda lui disse il bello degli irlandesi è che eh si nasconde un poeta in ognuno di loro no? Anche il il tra le figure eh politiche più importanti di Irlanda ci sono gli stessi degli stessi poeti perché eh il momento artistico anche in eh condizioni così terribili non non manca il momento aulico alto non è non non manca mai nonostante come sottolineavi tu Riccardo fosse molto giovane Bobby perché poi eh l'ultima incarcerazione quella che poi porterà allo sciopero della fame e alla sua dipartita non è la prima nel nella sua storia. No dunque lui fu incarcerato due volte eh allora lui entrò nel nel nell'Ira intorno ai diciotto anni quindi praticamente dopo il la Bloody Sunday cioè la famosa Domenica di Sangue di Derri del trenta gennaio 1972 anche questa documentata in un bel film alcuni anni fa eh che fu un po' uno spartiacque nel senso che eh si videro eh appunto questa grande manifestazione per i diritti civili di della della comunità cattolico nazionalista di di Derri di questa che è un po' la seconda città dell'Irlanda del Nord dopo Belfast che scese in piazza per reclamare eh i più elementari diritti civili diritto alla casa al lavoro il diritto di voto perché all'epoca erano di fatto dei diritti molto limitati se non proprio negati a una parte della popolazione di Irlanda del Nord una manifestazione dicevo pacifica eh e molto numerosa che eh vide una risposta brutale da parte del del governo britannico che mandò il primo battaglione dei Parà che era un corpo scelto d'assalto e che cominciò a sparare ad alzo zero quando la manifestazione scese giù da un colle appunto di questa città che si chiama Derri eh e facendo mh tredici morti più un quattordicesimo che morì in seguito alcuni giorni dopo per le ferite riportate fu una mattanza fu una piccola Tiananmen europea se vogliamo perché mh pensare appunto che eh qualcosa di di questo tipo possa accadere nel cuore dell'Europa occidentale negli anni settanta è fuori dal dalla concezione di di chiunque purtroppo accadde e questo eh ebbe un enorme eh risalto e soprattutto un creò un un risvolto emotivo molto forte nel senso che fu eh forse anche la miglior propaganda per l'ira stessa perché la sera stessa di quel di quel giorno terribile c'erano file e file di ragazzi giovani giovanissimi che volevano prendere un fucile prendere insomma un'arma e dire basta qui non si può più protestare pacificamente bisogna difendersi e anche contrattaccare quindi Bobby fu uno di quelli eh fu uno di quelli lui mh viveva purtroppo era un ebbe la sfortuna come tanti di 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 crescere di vivere in in una delle fasi più terribili di questo conflitto eh nella durante la sua infanzia era stato cacciato due volte di casa con la sua famiglia perché diciamo nei eh rivolgimenti eh etnico eh diciamo eh urbanistici della città di Belfast eh capitava spesso capitò in particolare nell'estate del 1969 che fu un'estate terribile che ci fossero dei veri e propri pogrom cioè di eh interi quartieri che venivano ripuliti oggi si chiama pulizia etnica diciamo dai tempi dell'ex Igoslavia all'epoca non si chiamava ancora così eh e venivano appunto cacciate centinaia di famiglie da un quartiere eh all'altro per requisire queste per requisire queste case e Bobby fu due volte costretto a questo appunto a queste a vivere questa esperienza sulla propria pelle fu poi cacciato dal suo posto di lavoro perché i posti di lavoro all'epoca a Belfast erano riservati soltanto alle eh ai protestanti e lui era cattolico anche se poi in realtà il suo cognome e suo padre aveva origini protestanti ma diciamo che l'elemento religioso è sempre fuorviante nel senso che lì non è mai stata una guerra di religione lì è sempre è solo è stata una un'insorrezione anticoloniale quella dell'ira io mi piace definirla così eh che è sfociata poi in una guerra a bassa intensità dove gli inglesi hanno sempre voluto far la parte dei pacificatori è sempre piaciuto far passare questo messaggio di due comunità in lotta addirittura di due religioni in lotta in realtà era semplicemente è stato semplicemente continua in un certo senso a essere un conflitto dove gli inglesi sono parte in causa e sono responsabili anche storicamente di quello che è accaduto e di quello che continua in piccola parte per fortuna ad accadere. Eh Bobbi appunto fu eh incarcerato due volte una prima volta eh che durò poco eh alcuni mesi eh finì nel carcere di 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 Belfast che all'epoca non era ancora quel terribile campo di concentramento come appunto eh viene descritto nei suoi scritti che si chiamava Long Cash che era questo questo enorme eh campo al eh alla periferia di Belfast che era stata diciamo una sorta di soluzione architettonica al conflitto con enormi eh bracci a forma di H dove i prigionieri stavano per lo più in isolamento in celle da due condizioni mostruose. Prima c'erano condizioni carcerarie meno terrificanti di queste all'interno delle cosiddette gabbie erano dei come dire dei eh degli edifici eh ereditati dal tempo della seconda guerra mondiale dove i prigionieri stavano in gruppi più ampi e lì c'era anche modo come dire di di una di 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 fare una certa socialità di vivere normalmente per quanto si possa vivere normalmente in carcere eh di leggere di 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 condividere tante cose ci sono delle foto anche basta andare su Google e e si trovano delle foto di un Bobby Sands con i capelli lunghi vestito normalmente sorridente magari con una chitarra in mano insieme ad altri ad esempio Jerry Adams il noto per eh politico che per oltre trent'anni è stato presidente del partito Sinn Féin e che ne ha traghettato diciamo la crescita da piccolo partito semiclandestino fino al grande partito di massa quale oggi eh nella seconda appunto carcerazione Bobby Sands eh visse sulla sua pelle eh questa escalation terribile scrisse anche questo diario che eh noto è stato pubblicato tradotto in italiano eh diversi anni fa mentre in questi scritti noi ci siamo concentrati insieme a Enrico Terrinoni con su eh gli scritti che erano ancora inediti in Italia c'era una quota appunto di prose e soprattutto le poesie che non erano mai state tradotte in italiano il diario invece è un'altra cosa eh e esisteva già in italiano e documenta appunto i primi diciassette giorni del suo sciopero dopo chiaramente le sue condizioni di salute diventarono sempre più eh difficili e e gli impedirono di continuare a scrivere però ecco la sua esperienza è anche un'esperienza non soltanto di di lotta di di sacrificio di mh che ha fatto di lui un'icona e mi piace forse con con un'esagerazione ma eh più che altro nelle differenti condizioni politiche eh è un po' una sorta di Mandela se vogliamo irlandese con la differenza che Mandela entrò in carcere dal leader politico e leader politico è stato anche dopo i ventisette anni ecco lui fece ventisette anni di carcere dall'altro non di vita Nelson Mandela e poi diventato presidente premio Nobel e tutto il resto Bobby entrò in carcere da ragazzo comune e eh trovò dentro di sé una forza e una determinazione che nemmeno lui sapeva di avere e diventò un leader diventò un leader che peraltro non era fuori fuori era un semplice attivista addirittura ci sono degli eh dei racconti riportati da persone che l'hanno conosciuto l'hanno frequentato quando era libero che addirittura lui non sapeva nemmeno sparare quasi non aveva cioè non era non ci immaginiamo un rambo ecco per dire o o comunque un un volontario dell'ira di quelli che hanno che hanno compiuto tantissime azioni ce ne sono altri molto meno noti penso per esempio a Brenda News lui era cioè un capo appunto di brigata un ufficiale comandante dell'ira e lui era un semplice attivista volontario che però come hanno raccontato molti che appunto hanno vissuto con lui la sua drammatica esperienza carceraria nonostante queste condizioni mostruose che era che era costretto a vivere eh aveva dentro di sé un fuoco aveva dentro di sé una forza e una una volontà che 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 riusciva a trascinare i suoi stessi compagni perché è evidente che eh è facile abbattersi quando si viene trattati come bestie si viene picchiati si viene vessati psicologicamente e fisicamente insomma è difficile eh trovare dentro di sé questa forza lui ci riuscì e e anche per questo è diventato l'icona che quarant'anni dopo eh stiamo appunto ricordando e celebrando. Sì Bobby Sands è un simbolo giustamente come come dici tu e nelle poesie negli scritti riportati eh in in questo libro si avverte questa sua incredibile determinazione eh si avverte in lui anche nelle parti eh più poetiche o nelle parti diciamo che potrebbero anche essere e sono stati in alcuni casi eh messe in musica proprio perché lui era un un cantautore da un certo punto di vista che seguiva la tradizione delle cosiddette rebel songs eh lui diventa anche storico a un certo in un certo momento perché racconta di episodi avvenuti nel nel passato una storia di oppressione eh quella del popolo irlandese che possiamo far risalire ai tempi di Cromwell e poi da tutto quello che ne è derivato dalla dalla grande carestia al alla Easter Rising come ricordavi prima la maglia che ho addosso oggi citate tantissime volte le figure di Patrick Pierce di James Connolly di quelli che sono stati i grandi rivoluzionari prima di Bobby eh in questo contesto importante insomma non era un mistero che nel duemila e ventuno sarebbero stati quarant'anni dalla sua scomparsa si sono forse allineati in maniera fortuita casuale a volte tragica una serie di elementi per i quali questo libro e soprattutto l'argomento Bobby Sands tornano a essere terribilmente attuali uno molto semplice le foto che avete utilizzato sul libro sono comparse non molti anni fa se non vado errato le foto di Harley giusto? Sì erano state ritrovate per caso a Belfast le ha pubblicate appunto Sinn Féin e sono delle foto appunto di questo fotografo francese che erano inedite e ce lo mostrano appunto mentre è sta partecipando a una manifestazione con reggendo una bandiera insomma sono foto molto belle e che ce lo raccontano appunto nella sua nella sua libertà non so nemmeno se nella fase appunto tra le due carcerazioni o precedente alla prima insomma sta di fatto che la la figura di di Bobby Sands appunto era poco nota continua essere in un certo senso poco nota nel periodo precarcerario e insomma c'è la fondazione Bobby Sands a Belfast che detiene i suoi scritti diciamo c'è c'è qualche dissapore con la famiglia però insomma credo che non sia il caso in un giorno di di celebrazione come questa ecco parlarne c'è un elemento importante invece che che io cerco sempre di sottolineare che è quello diciamo ci sono tanti elementi di di importanza appunto nella figura di Bobby Sands e nella sua tragica storia uno dei quali è quello che è stato la scintilla che questo ormai dopo 40 anni diciamo si può storicizzare chiaramente la la sua esperienza e diciamo si è cominciato a farlo anche prima di di oggi che sono effettivamente 40 anni ma la sua ehm la sua esperienza la sua vita e la sua morte sono stati la scintilla del processo di pace perché eh processo di pace che come sappiamo culminò poi con l'accordo del benedì santo nel 1998 quindi ben diciassette anni dopo quindi può sembrare un lasso di tempo troppo ampio in realtà il processo di pace anglo-irlandese fu lunghissimo e molto complesso e eh ho detto la scintilla perché durante la sua carcerazione anzi per la precisione durante il suo sciopero successe un fatto clamoroso storico ehm che fu la sua elezione al Parlamento di Westminster cioè mh nacque questa opportunità per una serie di circostanze fortuite eh il governo britannico dovette Parlamento britannico dovette indire un'elezione supplettiva nella circoscrizione appunto eh in una delle circoscrizioni dell'Irlanda del Nord perché era morto un parlamentare di area appunto eh cattolico nazionalista allora i partiti le realtà i movimenti perché all'epoca più che di partiti si doveva parlare di movimenti anche molto a volte semi clandestini perché erano tutti eh diciamo nella considerati illegali perché molti di essi vicini alla lotta armata non tutti decisero di sì all'epoca c'era anche una donna famosissima importantissima che tuttora viva ma che all'epoca era molto in auge che si chiama Bernadette Devlin e stavano per candidare lei lei era già stata eletta nel 1969 al Parlamento britannico era diventata la prima la donna più giovane eh mai eletta al Parlamento britannico aveva non aveva ancora compiuto ventidue anni lei stessa che non è non ha mai fatto parte della lotta armata è sempre stata diciamo una indipendentista radicale ma mai mai ha sostenuto la lotta armata fece un passo indietro eh perché decisero appunto di fare di coalizzarsi tutti ovviamente di quella parte politica lì per candidare Bobby anche nel tentativo disperato di salvargli la vita e eh il nove aprile 1981 quindi poco meno di un mese prima della sua morte ehm vi furono queste elezioni eh e che culminarono appunto nella sua vittoria con trentadue mila cinquecento voti lui fu eletto al Parlamento di Westminster e questo ebbe ovviamente un eco straordinaria ovviamente non cambiò di una virgola la sua eh la sua diciamo il conto alla rovescia verso la sua fine eh però insomma questo fece al di là del delle dell'impatto emotivo che la cosa ebbe sul momento eh fu importante dal punto di vista storico eh perché fece capire a quella parte appunto ai repubblicani irlandesi che fanno capo a quella parte politica che eh intorno allo Sinn Féin quindi Gerry Adams e soci fece capire che questa battaglia per l'indipendenza poteva essere eh portata avanti non soltanto con le armi ma anche attraverso la politica eh e attraverso diciamo le forme democratiche attraverso l'urna elettorale e quindi cominciò la cosiddetta eh politica del fucile in una mano e della scheda elettorale nell'altra e questo fu appunto un un primo passo verso eh un percorso lungo complesso accidentato eh che però poi culminò in questo accordo di pace che come tutti gli accordi di pace è imperfetto è è è è è frutto di un compromesso che scontenta alcuni ma eh è la politica insomma e quindi così è un altro ha fatto ha portato alla conclusione un conflitto che è durato nella sua forma moderna circa trent'anni e che eh non non si fa non si esagera a chiamare storico perché insomma un po' come il conflitto israelo palestinese si pensava che non avesse non avrebbe mai avuto fine insomma certo in termine compromesso purtroppo fa parte della della storia dell'Irlanda dal millenovecento ventuno eh da quando un altro compromesso importante fu la cessione delle delle sei con te il protagonista di quel di quel momento fu un'altra figura emblematica della storia dell'Irlanda Michael Collins anche lui eh perse la vita questa volta eh in un in un conflitto in un attentato eh a lui indirizzato il compromesso è ancora oggi un qualcosa che si ricerca in Irlanda del nord ultimamente abbiamo visto che ci sono state delle delle piccole eh sommosse all'interno di quei territori perché è una fiamma quella comunque del conflitto che non si è riuscita a spegnere del tutto ci sono state delle vittime anche in tempi recenti ricordo eh una una giovane giornalista eh i territori sono sempre quelli quelli che abbiamo citato Belfast Derry not London Derry come direbbero eh queste sono 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 momenti che fanno parte della storia di questo paese eh in un in un eterno conflitto in tantissimi si sono eh anche prodigati nel cercare di trovare delle eh soluzioni definitive che probabilmente non ci saranno mai cito perdonami all'interno della nostra intervista anche un altro libro molto interessante I sicari della pace dove lì si è parlato ultimamente nel duemila e diciannove se non vado errato di quello che sarebbe stato poi l'effetto Brexit su quello che è il rapporto reale tra eh Irlanda del Nord Europa Regno Unito e eh Stato Libero d'Irlanda Repubblica d'Irlanda chiamatelo come come preferite effettivamente ciò che hai detto di Bobby Sands fa sì che quella scintilla di una eventuale cambiamento e di un eventuale eh ulteriore compromesso nascesse realmente quello che eh si percepisce dal tuo scritto è quello che per noi oggi è quasi impossibile accettare ovvero il fatto che un mondo intero il vecchio continente fosse completamente o quasi eh completamente consapevolmente tenuto all'oscuro di quello che succedeva nei blocchi H di quello che succedeva al The Maze di quello che succedeva all'interno di queste strutture di detenzione eh il libro no spoiler questi sono fatti storici si conclude con la visita di una figura religiosa all'interno di queste carceri che dice non riuscivo nemmeno ad aprire la bocca per quello che io ho visto queste sono violazioni dei diritti umani spaventose quelle alle quali sono stati sottoposti gli anger strikers eh quindi per tutti coloro che negli anni mi hanno chiesto come mai io mi sentissi in qualche modo vicino a questa causa eh la grande critica è come mai morire farsi farsi lasciarsi morire fino a eh appunto al gesto più estremo perché quelle erano le violenze perpetrate non immaginatevi come giustamente sottolinea anche tu Riccardo il carcerato seduto eh con penna e calamaio a scrivere le sue le sue memorie siamo in condizioni eh totalmente disumane oggi eh ovviamente si è fatto tanto grazie forse anche a esempi come quello di Bobby Sands queste violazioni dei diritti umani nelle carceri non avvengono più perlomeno in quello che è il vecchio continente sì non c'è dubbio eh purtroppo avvengono in posti come la Palestina in posti come il Kurdistan in posti insomma in in tante in in tante situazioni magari non nell'Europa occidentale e infatti penso eh questo eh siccome con gli scontri che citavi tu che ci sono stati nelle settimane scorse o come casi più drammatici come quello che avvenne due anni fa appunto dell'uccisione fortuita ma comunque anche lì durante scontri di questa giovane giornalista che si chiamava Lira Mecchi sono tutte eh manifestazioni diciamo di un di un fuoco che comunque continua a covare sotto la cenere ma che a mio avviso e non soltanto a mio avviso ehm non potrà mai riportare il conflitto allo stato precedente perché mh le condizioni internazionali sono troppo differenti e non solo le condizioni internazionali diciamo quello che è stato sedimentato in questo in questo processo di pace non potrà mai eh io come dire eh penso di 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 potermi giocare la faccia con questa eh determinazione eh riportare appunto a un conflitto come quello che abbiamo visto fino alla metà abbondante degli anni novanta. Eh ciò non toglie che possano nascere problemi eh sicuramente eh in seguito appunto all'implementazione del protocollo sulla Brexit che sta creando non pochi malumori all'interno della comunità protestante che è quella che è poi scesa in piazza nelle settimane scorse che ha creato scontri che ha cercato anche il contatto dalla parte opposta del dei muri perché Belfast come molti sapranno è tuttora divisa da dei muri appunto che separano un quartiere dall'altro eh a seconda delle comunità di appartenenza. Ehm certo da un punto di vista dei diritti umani di condizioni carcerarie eh io penso che in Europa eh si siano fatti dei passi avanti magari fuori dall'Europa eh sicuramente meno. È bello devo dire eh andando a Belfast quando ancora si poteva sperando di poterlo fare presto eh a Belfast a Derri ci sono questi murales molto belli molto evocativi eh che però non sono soltanto autocelebrativi di quanto sono stati bravi gli anger striker di quanto è stato grande il messaggio di Bobby Sanz ma si cerca di attualizzarlo e di diciamo eh di fare da ponte a un internazionalismo di queste lotte cioè per dire il famoso muro di 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 Derri che è diventato un monumento no questa parete perimetrale ormai stilizzata bianca con scritto you are now entering free Derri state entrando nella libera Derri che è un po' diciamo il ricordo di questa lira comune di Derri degli anni fine sessanta inizi settanta spesso si colora per dire dei colori palestinesi dei colori turchi del insomma in sostegno ai ai ribelli del Rohava insomma c'è tutta una forma di eh attualizzazione che è doverosa perché nessuna lotta può essere considerata universale come diceva un nostro grande amico e maestro che era Giulio Giorello la lotta irlandese è una lotta universale i suoi principi possono essere quindi e devono essere eh appunto trasposti e utilizzati per tante eh per tante vicende tra l'altro per dire il Sudafrica prima vi citavo Nelson Mandela ehm quando nelle battaglie più dure del 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 periodo della che portò poi alla fine dell'apartheid in Sudafrica i prigionieri del carcere di Robben Island dicevano fare i sense cioè quando pensavano di cominciare uno sciopero della fame quindi per dire è un esempio quello di di Bobby Stance che eh è stato poi eh diffuso è diventato eh appunto qualcosa da eh da portare in tante istanze appunto laddove c'è una una lotta per la libertà per la giustizia sociale per diciamo contro l'oppressione dei popoli eh questo è il motivo credo anche per cui dopo quarant'anni stiamo ancora a celebrarlo certo certo questo eh si vince tra l'altro dalla buona composizione del libro perché eh oltre alle vostre introduzioni c'è ovviamente riportata quella che era l'introduzione fatta ai tempi da Jerry Adams appunto del Sinn Féin se risale al 98 giusto? 97 sì mi sembra. 97, 98 insomma eravamo anche lì nella fase del della concretizzazione del Good Friday Agreement e poi soprattutto c'è la parte delle note molto importante proprio per andare a spiegare anche quelle personalità che vengono citate da Bobby che eh magari non sono proprio comune a tutti. È una storia molto complessa quella del conflitto angolo-irlandese io mi sono interessato molti anni fa e ancora oggi ci sono tanti aspetti che a seconda di quelle che sono le testimonianze eh vanno a riempire quello che è il 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 un bacino di eh concetti molto 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 complicato perché poi ogni volta che c'è una tensione una violenza è complicato si tende a prendere delle posizioni la posizione ovviamente più eh corretta sarebbe quella appunto del del cessazione del conflitto a fuoco poi in realtà sono tantissime le eh prese di posizione di poi piccoli gruppi no anche anche in Italia noi abbiamo dei dei gruppi anche sui social network che si rifanno a determinate posizioni e la cosa importante appunto del libro che ci sono dei termini che sono assolutamente propri di quel conflitto e non di altri eh delle sigle eh e in questo senso è importantissimo il lavoro che appunto avete fatto inserendo quelle quelle note finali per essere il tutto più comprensibile. Come citavi Bobby Sainz figura importantissima nella cultura non soltanto eh popolare di quei territori i tantissimi murales il più celebre con il suo volto sorridente con le sue frasi più evocative ovviamente che ritroviamo non soltanto nelle nelle poesie negli scritti ma eh in tantissimi esempi della cultura di massa come possono essere le canzoni quindi Bobby ha ispirato tutta una serie di nuove generazioni di eh eh rebel songs ovviamente non sono più quelle che parlano di James Connolly ma sono quelle che parlano appunto degli hunger strikers e ovviamente nella cultura di massa il mondo del del cinema ha sposato più volte la causa irlandese forse il il titolo più celebre è quello che vedeva eh eh hunger no come titolo in assoluto più importante anche lì è molto 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 complicato rendere sul grande schermo quella storia forse uno scritto è ancora più evocativo sì non c'è dubbio diciamo il conflitto anche orlandese è stato raccontato a lungo e diffusamente eh anche diciamo dal dall'editoria italiana dal 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 cinema io amo sempre ricordare un film ormai datato ma sempre attuale perché fa capire tante dinamiche che è nel nome del padre che è un film penso di metà anni 90 e quello lì secondo me è il il film che chiunque non sa niente di quel di quel conflitto e vuole approcciarsi per la prima volta eh non può non rimanere colpito perché racconta diciamo un caso drammatico e realmente accaduto di di quella che si può definire giustizia razziale cioè di 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 discriminazione attraverso la giustizia o comunque la pseudo giustizia perché all'epoca i prigionieri irlandesi non soltanto i prigionieri gli irlandesi in generale eh erano considerati a prescindere eh dei dei potenziali terroristi cioè un po' come come accade magari adesso ai a quelli di religione eh musulmana o o di altre o o in altri contesti eh ecco eh all'epoca un irlandese a Londra negli anni settanta eh era già un potenziale terrorista un quasi sicuro terrorista e questi ragazzi furono appunto incolpati costruendo non per errore ma costruendo delle prove false eh di ehm di aver messo una bomba appunto a Guilford non a caso poi sono stati eh ribattezzati quattro di Guilford e si fecero dai quindici ai diciassette anni di carcere senza eh avere la minima prova reale che li che li accusasse ma semplicemente basandosi sulle loro eh testimonianze eh e sulle loro diciamo dichiarazioni di colpevolezza che erano state estorte con violenze fisiche e psicologiche. Questo è un caso esemplare diciamo di di quella che è stato hm diciamo la 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 discriminazione nei confronti degli irlandesi e eh che che prescindeva anche dalla loro effettiva partecipazione alla lotta armata. L'irlandese era considerato un criminale tu curro un criminale a prescindere e quindi questo portò poi a questo a questo conflitto interminabile insomma e che si spera adesso sia sia terminato anche nei suoi strascichi eh attuali insomma. Certo certo eh Riccardo io ti ringrazio innanzitutto per per la tua disponibilità immagino che oggi sarà una giornata molto molto piena perché appunto quarant'anni dopo eh parlare di Bobby Sands non è soltanto un un dovere dal punto di vista dei diritti umani ma è importante proprio per far comprendere quella che è la cultura di questo paese dove ovviamente tantissimi eh andranno ancora per vedere le verdi rivallate eh festeggiare una volta di più il diciassette di marzo ma ecco tutte le volte che parliamo di Irlanda parliamo di figure come quella di Bobby Sands come tante altre che lo hanno preceduto quindi trattare l'argomento non può ridursi a mio avviso esclusivamente nel festeggiare con un giro di di birre in un pub bisogna avere eh una dedizione forse un'attenzione in più perché è una storia eh molto affascinante e contemporaneamente molto dolorosa raccontata in maniera egregia da quelli che sono questi questi scritti queste poesie che potete ritrovare ovviamente in tutte le librerie o potete ordinare direttamente dal sito di pagina uno grazie ancora per la tua disponibilità e questa volta dobbiamo dirlo una volta di più forse proprio con forza our time will come non mi non mi lancio sul sul gaelico perché potrei commettere degli errori si dice ti ho ci ho là il nostro giorno verrà ehm io ti ringrazio ringrazio chi è stato ad ascoltarci e volevo segnalare che stasera alle 18 e 30 sulla pagina Facebook di della casa di editrice appunto che ha pubblicato il libro pagina uno faremo la presentazione diciamo celebrativa di questi 40 anni insieme a me ci sarà Enrico Terrinoni ci sarà Vittorio Giacopini di Radio 3 e ci saranno gli Hair Pillow che è un gruppo musicale romano che ha fatto al parecchi brani anche dedicati a Bobby Sanzo quindi avremo questa questo rimbalzo di parole musica insomma 18 e 30 di stasera chi è interessato diciamo non deve nemmeno muoversi basta si colleghi su Facebook ormai funziona così ai noi per il momento per il momento poi sicuramente avremo occasione magari di ritrovarci proprio in contesti anche di festa nei quali avremo modo di raccontare l'Irlanda tutta dalla musica ovviamente anche magari eh con con una una mangiata o una bevuta insieme ma soprattutto con le storie di questo popolo meraviglioso grazie ancora Riccardo grazie a tutti quelli che ci hanno seguito a te ciao Grazie a tutti Grazie.